L'esercizio fisico fa bene al cuore e ai polmoni. Comunque, troppo esercizio fisico può indebolire le ossa, portando a problemi nell'età avanzata. Questo è ciò che è stato riportato in una conferenza sull'impatto dell'esercizio fisico sullo scheletro umano secondo The Guardian di Londra. I corridori e quelli alla ricerca della forma fisica suprema sono a maggior rischio. Le giovani donne che partecipano troppo spesso a lezioni di aerobica o danza sperimentano più fratture da stress e si dice che rischino di soffrire di osteoporosi quando sono più grandi. Gli atleti sono stati avvertiti che potevano rafforzare le loro ossa solo entro i 18 o i 19 anni prima di iniziare a indebolirsi, dice l'articolo. Lo squash e il tennis sono stati identificati come i migliori sport da praticare per aumentare la forza delle ossa. Michael Horton, capo del centro osseo dell'University College di Londra, ha consigliato di trovare un giusto equilibrio tra esercizio fisico e salute. Ha avvertito? Il governo continua a dire che i giovani dovrebbero fare molto esercizio fisico. Potrebbe essere benefico per un po', ma nessuno ha pensato quale sarà il risultato finale quando questi giovani raggiungeranno i 50 anni. iniziare il risultato.